Siamo a Luis sul lungomare di Crotone, serata conclusiva di questa fine estate. Tra un po' inizierà l'inverno, nel frattempo questa sera festeggiamo una serata, la serata Martini. Sì, è un'estate fantastica, stupenda, peccato prima o poi finisce. Aspettiamo l'anno prossimo perché Crotone ad estate è bellissima, è bellissima sempre, ma d'estate lo è di più, ha il suo glamour, il suo fascino, la sua vita mondana. Stupenda, bellissima serata, peccato che io non lo sapevo che era la serata del Martini e ho preso un'altra cosa. Non lo dica, faccio finta che c'è il Martini. Cosa posso fare? Sono troppo sincero, quindi è così. Comunque bellissima serata, complimenti. Allora, sicuramente una bellissima serata, una bellissima iniziativa, poter stare qui sul lungomare cittadino. Ancora fino a luna rispettiamo l'ordinanza, quindi possiamo mandare avanti con la musica, tra virgolette, ad alto volume. Poi da luna in poi andremo avanti fino alle quattro, facendo caos per il modo silenzioso. Quindi con queste cuffie, tre cuffie con tre generi musicali differenti, una bella serata, sette DJ tutti crotonesi, quindi i presupposti per divertirci in maniera, diciamo, senza dar fastidio, ci sono tutti. Eh, bello, visto che siamo a fine estate ci voleva, almeno così chiudiamo in bellezza. Poi è sabato, lo passiamo diversamente. Tanta musica, tanta bella gente, tanto divertimento, un divertimento puro. La movida crotonese c'è, questa sera è qui a Luis, bevendo un buon Martini. Che cosa ci rimane da dire? Vabbè, innanzitutto ringraziamo Gioco in Casa e mio fratello Pici per aver organizzato questa bella serata. Che dire, non ci resta che divertirci, passare una bella serata qua in compagnia di amici. Basta così, penso che abbiamo già detto tutto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.